Porta tovaglioli lanciati contro la polizia e morsi agli agenti da parte di un 32enne italiano. Inizia così la domenica mattina a Pesaro, intorno alle ore 7, quando alle forze dell'ordine viene segnalata una persona che sta prendendo a calci l'ingresso del bar Capris in piazzale Lazzarini, pieno centro storico cittadino. Una volante si reca sul posto e cerca di far calmare l'uomo, che però minaccia gli agenti di morte e poi lancia contro uno di loro un porta tovaglioli, ferendo il poliziotto alla testa. Gli operatori estraggono quindi il taser e intimano nuovamente all'uomo di calmarsi, ma non c'è nulla da fare. Così esplodono i colpi che immobilizzano solo per un attimo il 32enne, che dopo essere caduto a terra si sfila i dardi di dosso e morde l'altro agente che si era avvicinato e che nonostante indossasse il giubbotto riporterà comunque una ferita da sanguinamento. Infine riescono ad ammanettarlo e metterlo in sicurezza. Sul posto arriva il 118 che soccorre i due agenti, ai quali vengono diagnosticati cinque giorni di prognosi per danni alla testa e morsi. L'uomo invece, identificato, risulta essere noto alle forze dell'ordine. Si tratta di un soggetto psichiatrico. Per questo non è stato arrestato ma portato in ospedale, dove si procederà per un TSO. Dovrà poi rispondere di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.